Il Papiro Volley Fiumefreddo lavora per provare, quantomeno sabato, a dare fastidio alla capolista Cinque Frondi, che arriva al Palamendola con la voglia di proseguire la propria cavalcata verso la Serie A. Che i valori in campo saranno squilibrati, non è necessario ribadirlo, però Tani Frinzi Russo, tecnico fiumefreddese, può ripartire da alcuni elementi interessanti emersi a Mister Bianco la settimana scorsa, in una gara simile in cui Davide Papiro ha sfidato un altro Golia. E nonostante il Papiro si trovasse di fronte ad un avversario mastodontico, si è trovata avanti sia nel primo che nel terzo set di ben sei punti, e complessivamente hanno inciso nell'economia della partita più i demeriti dei fiumefreddesi che i meriti della messaggeria. Con il Cinque Frondi servirà sabato un pizzico in più di concentrazione, quantomeno per uscire dal campo senza rimpianti.